La Guardia Costiera di Castellabate senza preavviso ha sequestrato le imbarcazioni presenti nel porticciolo delle Gatte a Santa Maria di Castellabate. I proprietari se le sono viste portate via senza poter fare nulla. Oltre alla rimozione sono scattate anche delle sanzioni amministrative per le violazioni di legge contestate dagli uomini della Capitaneria. Ieri è stato compiuto un atto che non trova giustificazioni nell'antico approdo delle Gatte ha dichiarato il sindaco Costabile Spinelli rispetto sempre il lavoro delle forze dell'ordine ma quando si compiono azioni spropositate nei confronti di anziani pescatori che rappresentano la tradizione marinara di un territorio vocato proprio alla pesca un sindaco non può che esprimere il proprio disappunto. Si è trattato di un gesto sproporzionato intrapreso senza il minimo coinvolgimento del comune. Sarebbe stato possibile far rispettare comunque la legge con buonsenso e attraverso modalità diverse senza atti di forza inammissibili. Conclude il sindaco, un simile comportamento rappresenta uno sfregio alla storia della Marina di Castellabate.